La città metropolitana è operativa, ci sono riunioni con i consiglieri delegati, i cittadini cominciano ad accorgersi, ma soprattutto i sindaci, che questo ente funziona? Sì, noi abbiamo impiegato i primi sei mesi di quest'anno a implementare la città metropolitana, adozione dello statuto, formazione delle 11 zone, nomina dei portavoce di zone da parte delle assemblee dei sindaci, redazione del bilancio, articolazione del lavoro organizzativo. Adesso la città metropolitana entra nella sua piena operatività, stiamo definendo l'attuazione del piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica, stiamo discutendo con ANAS come dare corso al piano di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, abbiamo avviato in ogni settore l'attività della città metropolitana e i consiglieri delegati, che sono poi gli assessori della città metropolitana, stanno ciascuno per la propria competenza operando. In queste settimane stiamo discutendo anche con la Regione il completamento delle funzioni che la Regione delegherà alla città metropolitana di interventi per l'edilizia scolastica.